Per noi la priorità doveva essere la riforma della pubblica amministrazione, per la maggioranza la priorità è stata la riforma costituzionale e la riforma elettorale, nonostante sappiamo tutti che Renzi vada in giro a millantare il fatto che vuole arrivare fino al 2018, se tu vuoi arrivare fino al 2018 forse la riforma elettorale e la riforma costituzionale non dovevi tenerle come priorità, ma dovevi avere come priorità del tuo governo una riforma della pubblica amministrazione che tutti in questo momento stanno chiedendo, anche gli stessi operatori, coloro che lavorano nella pubblica amministrazione te lo stanno chiedendo.